Negli ultimi giorni sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, nel corso dei quali sono stati verificati 89 automezzi, elevate 7 contravvenzioni al codice della strada, ritirate una carta di circolazione e una patente, identificate 135 persone, sequestrati due coltelli, un tubo di ferro, 9 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. In particolare sono stati deferiti, un 44enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché fermato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 17 centimetri. Un 39enne, poiché controllato a bordo di autovettura e a seguito di perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di un tubo di 80 centimetri che trasportava senza giustificato motivo. Un 40enne, controllato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 centimetri. Un 21enne, per detenzione di sostanza stupefacente perché fermato a piedi e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish, successivamente posti sotto sequestro. Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta quali assuntori due soggetti che detenevano per uso personale hashish e marijuana.